Ciao a tutti oggi volevo parlarvi della linea della Kerastase Genesis e ho preso tre prodotti di questa linea che vi farò vedere adesso che è il shampoo e questo qua è già il mio secondo perché comunque mi piace tantissimo è un shampoo che ha al suo interno la radice di zenzero che aiuta a fortificare i capelli e aiuta anche con la caduta sia per chi ha i problemi di rottura che i problemi di caduta di capelli magari da mancanza di vitamine o da problemi di salute è veramente valido perché io perdo tantissimi capelli vi lascerò anche una foto di quanti capelli perdo ogni volta che li lavo e da quando sto utilizzando questa linea qua della Kerastase che è più o meno da una settimana mi sono trovata talmente bene che i miei capelli praticamente non cadono più perché prima avevo preso solamente questo che è sempre della linea Genesis però questo qua è il siro che mi è praticamente finito questo qui e questo qua lo vai a mettere tutti i giorni delle goccine nel cuoio capelluto e fare un po' di massaggi non c'è bisogno di mettere tante e questo siro qua è veramente favoloso perché da quando l'ho utilizzato i miei capelli hanno praticamente dimezzata la caduta o quasi tutta e ha una profumazione molto buona tipo di rose ma neanche quell'odore di rose di vecchio io dico che rose a me non piace molto l'odore delle rose ma ha un profumo veramente buono e la maschera che è quella che ho io non ho il balsamo perché ho altre linee della Kerastase e ho preferito di prendere la maschera di questa linea anziché il balsamo e la maschera è molto buona anche lei molto profumata e secondo me è una delle linee della Kerastase che ti lascia i capelli profumati per giorni ha una consistenza molto buona una maschera ben soda non è quel tipo di maschere di capelli molli che cadono vedete che io giro e non si muove neanche e è molto buona e molto idratante è una maschera ricostruttiva si va a ricostruire i capelli e aiuta anche a non cadere i capelli allora il shampoo è anche per i capelli grassi quindi se voi avete i capelli un po' grassi o grassi io ho i capelli molto grassi già vedo differenza e praticamente ho recuperato un giorno di lavaggio perché prima avevo un giorno sì un giorno no adesso ogni due giorni praticamente li lavo non lavo più un giorno sì un giorno no è anche per capelli fragili fini da normale a misti arricchito con cellule native di stella alpine i radici del zenzero preserva il collagene della fibra e la sua luminosità mentre stimola la microcircolazione dei nutrienti e veramente lascia i capelli lucidi io oggi ho lavato i capelli con questo shampoo però la maschera non l'ho utilizzata perché avevo già i capelli molto belli perché questa settimana già ho utilizzato due volte ma potete vedere come sono belli morbidi i miei capelli nonostante ho fatto il babyliss vediamo se riesco a affocare un po' di più vedete e sono belli lucidi leggeri che cose che i capelli grassi di solito non sono così leggeri sono leggeri e sono profumatissimi perché questa linea ha questa qualità di lasciare il profumo finché andate praticamente a lavare si sente il profumo ovviamente se utilizzo la maschera profuma tantissimo se utilizzo perché io i capelli come vi dicevo grasso allora cosa faccio? io non utilizzo il balsamo io li lavo solo col shampoo e basta poi dopodiché vado a mettere un latte protettore termico che utilizzo di un'altra linea della Nutritiv che vi metterò qua la foto perché ce l'ho lì nel bancio vuole di alzarmi perché c'ho tutto il filo del microfono e poi metto anche l'olio che sto utilizzando quell'olio Elisir di Kierastase e allora se io metto il balsamo io metto tutte queste cose è un po' troppo per i miei capelli perché sono molto fini e sono molto facili di ingrassarsi allora io facendo così non ho i problemi se voglio asciugarmi col fondo preferisco proteggere i capelli che utilizzare il balsamo allora va benissimo così infatti ho solo un balsamo di Kierastase che è di un'altra linea che vi parlerò a breve comunque questa linea della Kierastase è favolosa io la prendo nel sito direttamente di Kierastase e a volte ci sono delle offerte a volte non ci sono come così anche dal sito di Amazon e da questa linea c'è anche l'altro shampoo che è per capelli più secchi perché questo qua della linea Genesis è per capelli grassi ma c'è anche l'altro che non è così trasparente che è per capelli più secchi e niente ragazzi io secondo me è una linea che vale veramente la pena io da quando utilizzo Kierastase i miei capelli sono cambiati tantissimo io avevo i capelli molto fini avevo pochi capelli adesso ho molti più capelli infatti mi stanno crescendo altri capelli e vabbè che è anche la barba anche qua e infatti fino a più o meno qua io sento che ho più volume di capelli prima non avevo è già un 7-8 mesi che utilizzo solamente Kierastase e l'altra parte qua più giù dei capelli perché ho capelli molto lunghi sento già più la cordina fina perché di qua già non è ancora arrivati i capelli nuovi ma arriveranno e allora vi consiglio se voi volete spendere dei soldi con un prodotto di qualità prendete i prodotti di la Kierastase perché sono favolosi ovviamente dovete trovare i prodotti adatti a voi ma questa linea della Kierastase per capelli fini capelli che cadono è favolosa è veramente fantastica e ne vale la pena provare se voi non volete investire e comprare veramente tutto il kit provate come me che io ho provato il siero mi sono trovata benissimo ho detto no prenderò anche altre cose poi ho preso già il shampoo e la maschera insieme però si può provare anche solo col shampoo e la maschera il shampoo e il balsamo e poi prendete il resto se la linea e il vostro capello va bene e niente io vi saluto vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo